Ciao dolcezze, ciao a tutti, come state? Nuovo video, un po' di trigger, plastic sound, un po' di mouth sound richiesti, un po' di carezze, quindi col pennellino, brush in camera e poi farò anche le ripetizioni di parole in toscano richiesto da Sara P, ciao Sara Faccio un po' di tutto, un po' di suoni in questo video, ok? Iniziamo Tutti i video richiesti praticamente perché sono seduta sul divano con il comodino che si può spostare dalla camera, l'ho spostato e ho una bottiglia che appoggio per il telefono perché il cavalletto non ce l'ho che lo devo ricomprare Purtroppo, 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 ancora senza microfono però spero che vi piaccia lo stesso questo video Dolcezze, 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 anche un po' di mouth sounds quindi tico, 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 sThat, sThat , s, sk, s, sk, s, sk, s e un po' di tongue clicking e poi un po' di plastic sound, plastic sound la barretta ai cereali frutti e osse del Penny, buonissima, anche se nauseante così almeno faccio tanti suoni in un video solo e non faccio solo ripetizioni di parole bellissimo il diretto toscano ma io non sono capace quindi prendete questo video dove ripeterò e leggerò le parole in modo molto comico, divertente spero di non offendere nessuno ma farò anche un po' di air tracing in aria quindi scriverò qualche parola in aria e me l'ha richiesto anche melissa melissa, melissa, melissa spero di accontentarvi questo che cos'è? che oggetto è? sicuramente avete indovinato i fazzoletti è bellissimo anche questo brushing, brushing, brushing brushing, brushing, brushing del nome dame 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 dip şurada dame dame ho fatto anche un altro video fast mentre vi truccavo per finto ovviamente come video divertente mentre ripeto queste parole non offendete non so gli accenti e non so neanche sinceramente i significati di certe parole tipo mucchiare mucchiare non so cosa voglio dire Sara aiutami dimmi le traduzioni garbare garbare io ce la rimoscio altrettutto quindi aiuto forse sarebbe meglio fare questo video ripeto parole in dialetto nell'altro canale perché in smr con la voce bassa viene difficile perché l'accento anche non so dove va messo quindi è un casino uscio uscio l'uscio e la porta credo sia giusto cannella 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 che non penso sia la spezia non lo so l'abisse 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 o l'abisse 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 trapiccolo 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 una cosa che traballa credo sia giusto gencio 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 l'ostaggio dovrebbe essere l'ostaggio per pulire cingillassi 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 sicche 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 ciotola e ciotola in tutte le lingue anche in toscano ciotola e ciotola 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 cianciare 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 vuol dire chiacchierare parlare tritello 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 la pisse ciotola uscio uscio cingillassi cingillassi sicche sicche poi Adi mi aveva richiesto anche il suono delle bottiglie di vetro dei profumi che si toccano e ok vado a prenderle tra poco adesso faccio un po' di hand movements così e anche qualche tracing in aria il tracing in aria anche senza scrivere niente perché me l'ha richiesto Melissa mi fate sempre un sacco di richieste ragazzi io cerco di accontentarvi tutti ok proviamo a scrivere qualcosa vediamo se capite c è la prima lettera la seconda adesso la sto facendo la terza è questa quattro lettere ok quattro cinque sei sette lettere l'ultima è la a rifaccio prima seconda terza quarta quinta sesta settima forse ottava otto parole sì la prima è la C la seconda terza quarta quinta sesta due uguali ce ne sono quattro uguali di lettere vi sto aiutando ok e l'ultima l'ottava è questa è la A C A ok C A provate a capire cosa ho scritto in aria parole in aria tornerò a fare anche qualche roleplay oculista mi è stato richiesto di nuovo quindi lo farò anche se non ho nessuna attrezzata il mestiere se pare forse se pare sì mi piacerebbe averlo però ho poco spazio in questa casa ragazzi poco spazio in questa casa non posso comprare tutto quello che vorrei per fare i video insomma perché non so dove metterlo tra un po' esco io per fare spazio agli oggetti altro un altro po' di brush in camera che io adoro quando lo fanno gli altri spero che vi piaccia scusate se sono struccata arriverà un nuovo microfono ma devo ancora capire forse è meglio prendere il lavallier invece che quello da tavolo perché quello da tavolo non posso muovermi tanto e poi magari va attaccato al computer come quello che ho già e non va bene e invece ho paura a comprare quello lavallier anche se costa 10 euro su amazon però ho paura che si rompa dopo due anni come quello che ho già aiuto voglio fare un altro video spesa se riesco in ASMR tipo commessa ma non cassiera commessa nel senso che vi consiglio cosa comprare in base alla vostra cena il vostro pranzo insomma come ha fatto Alessia tempo fa tanti anni fa eccomi qua sono due profumi che non mi piacciono ma sull'altro canale vi ce l'ho già fatti vedere su Sere Channel il vetro è bellissimo è meglio se ci fossero più cose anche alimentari nelle confezioni di vetro invece che c'è tanta plastica la verdura la frutta la carne la pasta il riso gli yogurt i gelati le brioche anche comunque il make up ha tantissima plastica prodotti beauty struccanti c'è troppa plastica ragazzi questi sono due profumi dell'idol se vi interessa sono dolci ma entrambi li sento agrumati e non mi piacciono i profumi agrumati vabbè meglio il profumo Aura Jolie che adesso si chiama Essence Jolie saprà l'idol 6 euro 5-6 euro grazie Adi che mi ha richiesto questo video non so se sia un lui o una lei penso sia una lei volevo aprire una parentesi molto breve e la chiudo subito a warrior and prince certi commenti li puoi anche risparmiare tu sai di cosa parlo godo come un riccio insomma non mi interessa non è un canale sessuale questo va bene dire fai dei miei video ma certe cose certi commenti non li voglio da nessuno non solo da lui grazie per favore subito il tester mi piaceva tantissimo per quello li ho comprati ma poi indossati a parte che durano niente sulla mia pelle peccato sprecato i soldi non ve li consiglio se guardo fuori perché ce l'ha vicino buon relax a presto a presto